Uno dei problemi della vita è che quando sei piccola hai un certo modo di risolvere i disaccordi. E queste leggi, sfortunatamente, non funzionano nel mondo degli adulti. Uno dei principali modi in cui i ragazzi risolvono le dispute è dire la propria decisione. Per esempio, io vado davanti. No, facciamo la conta. D'accordo. E chi vince la conta si siede davanti. Ha vinto, aspetta lui. In un tribunale le cose andrebbero così. Vostro onore, il mio cliente vuole sedersi nel posto davanti. E il giudice direbbe, ha vinto la conta? Beh, no, non l'ha vinta. Bang! Ha vinto la conta. Il caso è chiuso. L'obiezione è respinta.